La giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie giunge alla sua 27esima edizione, un periodo lungo che ha reso protagonista una vasta rete di associazioni, di scuole, di realtà sociali in un percorso del cambiamento dei nostri territori. La giornata è riconosciuta dallo Stato attraverso la legge 20 del marzo del 2017. In questi anni molta strada è stata fatta per combattere le mafie, moltissime sono state le iniziative, i percorsi di cambiamento proposti e realizzati, ma anche le mafie hanno modificato il loro modo di agire, rendendosi più nascoste, più invasive, più pericolose per le nostre comunità e la nostra economia. Il 21 marzo è una giornata di arrivo e di ripartenza per agire al fine di porre al centro della riflessione collettiva la vittima come persona e il diritto fondamentale e primario alla verità. Libera ed avviso pubblico hanno deciso di promuovere la 27esima giornata della memoria delle vittime di mafia, tornando a leggere l'elenco delle vittime innocenti. Leggere il lungo elenco di nomi delle vittime, scandirli con cura, è un modo per far rivivere quegli uomini e quelle donne, bambini e bambine, per non far morire l'esempio di chi ha combattuto le mafie, avviso aperto. Per questo l'appuntamento sarà sabato 19 marzo alle 17 presso il giardino 21 marzo, antistante la provincia di Biella, a condividere insieme la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. E lo faremo, si legge nella nota di Libera Biella, con una manifestazione statica, all'aperto, nel rispetto delle restrizioni dovute alla pandemia. Al termine verranno letti i contributi degli studenti sul tema della pace. La presenza dei rappresentanti dello Stato, delle istituzioni, delle forze dell'ordine, delle amministrazioni comunali e dei cittadini, saranno il segno di un territorio che non dimentica e che non smette di sperare di avere fiducia in un futuro in cui le mafie e il malaffare siano consegnati ai libri di storia.